ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay it questa è una video news uno di quei video che faccio di getto quando vedo la notizia come un fulmine a ciel sereno e non ho nemmeno il tempo di scrivermi un testo mettere insieme due idee lo faccio di getto perché credo sia inutile mettere in ballo un video improvvisato dove non so cosa fare o una live dove gioco ma non mostro nulla delle novità diciamo che questo è uno di quei video che vuol far riaccendere in voi l'hype siamo come potete leggere su no man sky sul sito ufficiale per annunciarvi io annunciarvi io vi annuncio l'uscita della nuova ultimissima patch come capita ogni anno ormai all'anniversario del gioco questo gioco viene ulteriormente ampliato ma questa volta non è solo l'aggiunta di oggetti i mezzi ma di una cosa che era forse l'ultima che mancava dall'inizio ma andiamo con ordine e vi faccio vedere intanto voi andate se avete già nome sky avviate download intanto continuate il video perché questo è l'update 3.6 possiamo diventare una sorta di guardiano cioè potremmo anche avviare il video ma per copiere non lo farò in sintesi magari lo avviamo anche muto con col muto in pratica qua si possono trovare alieni in giro in sintesi trovate degli insediamenti alieni non si parla da quello che ho visto di vere e proprie città ma insediamenti di cui potrete prendere possesso guadagnando la fiducia svolgendo incarichi anche gli interni ovviamente sono procedurali come dicono loro questo è una novità immensa ma soprattutto non è questo non è solo l'insediamento in sé le missioni che vi daranno gli abitanti la possibilità di scalare appunto le gerarchie all'interno del villaggio e diventare il protettore diciamo il guardiano di uno di questi insediamenti non so dirvi se lo potrete fare più di uno ma potrete prendere appunto possesso di un villaggio e aiutarlo a crescere quindi ampliandone gli edifici e questo per dirvi anche che hanno aggiunto diverse cose a livello di costruzione di edifici c'è questo ad esempio è stato praticamente rivisto c'è in pratica da qua questa è una domanda che mi facevo da tanto si può volare parebbe proprio di sì volare all'interno di c'è all'interno sopra cavalcando grossi volatili e hanno completamente rivisto anche il sistema di costruzione degli edifici questo vedete che è un sistema una sorta di difesa con questi mech enormi ma andiamo a vedere hanno aggiunto il planetary settlements quindi piene di vita e promesse possono essere trovati in sistemi non abitati vagando per l'universo qua vedete alcuni screen trova il tuo insediamento quindi puoi diventare un overseer credo un guardiano del tuo insediamento quindi potete anche credo fondarne uno e soprattutto potenziando gli edifici riceverete nuovi visitatori potete dare il nome alla città e scegliere cosa costruire commissionare festival risolvere dispute respingere attacchi delle sentinelle e molto altro poi sono state aggiunte queste nebole bellissime che fanno mancare letteralmente il fiato e soprattutto hanno costruito rifatto totalmente la il modello di costruzione degli edifici a griglia in sintesi quindi qua ci sono una serie di cose quindi potete avere uno spettacolo del genere ok non è la metropoli ma perché no la potrete rendere voi una metropoli ogni insediamento è unico quindi è generato proceduralmente con edifici unici vicinati colori schematiche insomma decorazioni interne esterne uniche avete più save slot ne hanno aggiunti di più da 5 a 15 quindi questa è una un'ottima cosa e hanno aumentato gli effetti di distruzione quindi insomma hanno aumentato mentre l'ultimo aggiornamento era stato un revamp grafico ora hanno migliorato le varie esplosioni qua sembrano un pochino più un pochino più belle potete aiutare l'insediamento crescere scegliere cosa costruire costruire nuovi edifici e rendere appunto il vostro insediamento più bello centinaia di nuove parti di base quindi vedete che c'è molta più varietà rispetto prima e anche a livello di parti decorative questo è un dico che pur essendo moderno ricorda qualcosa che arriva dal giappone e poi sono state aggiunte queste cose che sono nuove carte per steam qua come vi dicevo la possibilità di difendere l'insediamento dalle sentinelle sentinelle sono qualcosa che non è stato rimosso nuovi effetti di combattimento e più diciamo diciamo questo è una sorta di cose che salva di più il gioco prima di uppare a livello di scoperte quindi potete scoprire scoprire più cose e questo questo è eccezionale perché sono i pensieri degli abitanti potete identificarne le intenzioni questo si sente amichevole questo sta componendo un poema questo si sta rilassando prima del lavoro e quindi vabbè la quick twitch campaign insomma io non ne prenderò parte è stata potenziata anche la ui diciamo l'interfaccia grafica del del piazzamento degli oggetti quindi dovrebbe essere fatta un po più un po meglio rispetto a quello di prima infatti vedete tutti i tasti dove è possibile poi ruotare gli oggetti questo è il risolvere il dispute tra gli abitanti intanto sottoscorrono dei panorami spettacolari guadagna risorse dal tuo insediamento un alto insediamento molto produttivo può generare un introito di prodotti e sostanze un popolo felice produttivo provvederà un rifornimento generoso al proprio protettore e quindi anche qui altra carne al fuoco davvero gustosa effetti di ambientali tra cui la polvere quando atterrate e così via qua se ne vedono tante insomma potrebbe essere figo perché comunque con un mezzo del genere che prima era utile ma fino a un certo punto ora che avete l'insediamento potete stabilirmi lì e andare poi a vagare tempo perso l'universo ma avete una casa che finalmente è vostra controlli avanzati di costruzione potete duplicare le parti di base guardate quanti oggetti che sono venuti fuori potete muovere le parti non finisce più questo prendere importanti decisioni questa è l'overview del villaggio quindi la città il numero di cittadini la felicità la produttività al giorno i costi di manutenzione diventato anche una sorta di strategico mamma mia che roba ragazzi io andrò in ferie purtroppo non lo recupererò prima di metà settembre però non vedo l'ora non vedo l'ora hanno potenziato anche gli effetti del multi tool menu contestuali e le parti contestuali scusate della della base quindi qua ci sono cose che prima non c'erano quindi costruire delle mura che sono utili alla fine perché se c'è il l'invasione delle sentinelle quello che le mura sono utile e l'insediamento tra i visitatori e alieni in visita e possono chiedere di unirsi aumentando e potenziando la popolazione con le loro skill uniche e qui vedete uno è uno chef veterano uno è un gestore di robot uno xenobiologo e qui sono gli interni cloud extending e poi ovviamente la nuova expedition che è una patch che hanno giunto tempo fa con queste sorte di partite stagionali che scadono dopo 8 mesi dove potete andare a diciamo vincere degli achievement questa sta parlando della cartografia l'ultima spedizione e quindi qui c'è un riassunto veramente eccezionale di tutto quello che è il la patch uscita 3.6 ragazzi io vi rimando alla pagina della del gioco alla vostra pagina dei l'elenco dei giochi steam perché questo è un aggiornamento che se nome sky vi è piaciuto ma secondo me secondo voi come a me mancava qualcosa questo è il momento giusto per riscaricarlo ragazzi attendo vostri feedback alla prossima e ciao ciao